Bello a tutti e benvenuti, io sono Matti Marzi, siamo qui a FIFA 18 con il nostro mitico Beri, il nostro ancora più mitico Rosso Knapp Siamo in semifinale per la Coppa Internazionale Europea Allora, fino ad ora abbiamo vinto proprio facile, 4-0, 5-0, 8-0 Abbiamo stravinto perché fondamentalmente abbiamo trovato delle squadre semi-polacche Tranne l'ultima che era spagnola, poi l'altra erano polacche, russi, insomma Non so quanto avessero di overall, ma sicuramente poco Adesso siamo con questo midi, il midi team Che non so, potrebbe essere la squadra più forte del mondo come noi Abbiamo avuto le ultime acquisti Ancanzo, Anquansong, soprannominato An Solo Poi abbiamo comprato Andersen, che è abbastanza carino Krien, Krien come centrocampista E Andersen come difensore Andersen, anzi, perché c'è Andersen e Andersen Buonanotte Krien No, no, sicuramente non mi piace, quindi per darsi anche che lo venderò Anche se l'ho comprato adesso E poi abbiamo venduto purtroppo Martino Perché ci hanno offerto 2 milioni e 6 Valeva 2 milioni e 2 Di cui 607 è tenuto persino la dirigenza, l'arri, maledetti Però il problema è che Il problema di Martino a me piaceva molto come un giocatore di Martino Solo che 30 anni Per me questa è una squadra che di 30 anni A parte quelli che devo vendere non c'è rimasto più nessuno Un po' mi è dispiaciuto, però bisogna fare i sacrifici Molto probabilmente venderò anche Moschera Perché ho bisogno di soli perché devo praticamente fare tutta la squadra Cosa che lo devo vendere, potrone lo devo vendere Tonucci, lo devo vendere Andersen, Anderson, devo vendere Furlan E più mi devo fare comunque la rosa dei sostituti Perché non c'è nessuno Quindi mi sa che Almeno che siccome Cutrone vale un suo 6 milioni nonostante tutto Magari con cosa che Cutrone è messo insieme Deve scattivare i suoi soldi Per quello che devo fare Intanto andiamo a giocarci La nostra partita, la nostra semifanale Che comincia ad essere importante Blu Ma andiamo nei pesi che sono più bellini Hang Song Hang Song 1 O Hang Solo Per gli amici A me piace L'ho pagato 5 milioni Ah, follia perché ne avevo 10 Gli ho dato Un attaccante che era in prestito Che è rientrato Gli ho dato subito Due e mezzo Più due e mezzo li ho spagati Vabbè L'importante L'importante è averlo pagato due e mezzo Concentrati qua ragazzi Che siamo insieme ai finali Oh Oh Nooo Ma non era così fallo Era un po' fallo Un po' Un po' Che c'è Non gli ha dato neanche niente Ti potremmo anche Comunque mi piace il bello di fisico così Bisogna giocare di fisico O di velocità O di fisico Una delle due Forlano Oh Come si sta giocando D'addio Nooo Moschera Ma non credo che correranno Perché Moschera mi tradisci così nel cuore Traditore No Dai zitto Non è interessante Ma Andersen 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 Non voglio dare meriti a chi non ne ha Era Andersen Oh Michael Mamma mia Muro Muro Vediamo che ragazzi qui il galvo ha fatto Velocemente Perché questi non scherzano Non sono i polacchi Di prima Nella partita precedente Questi Un gol Ce lo spiattellano Quando meno te lo aspetti Occhio al suo movimento Cerca il pallone Senza problemi dal portiere Sono priorosi questi Questi sono priorosi Ma guardalo Ma sei una carogna Staccati un attimino Oh non pensavo la passasse a lui Ce l'avevi facile accanto Se andrà a passare laggiù in fondo No 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 Provi Che si stringono No Ma non ti mettere dietro Ma perché ti metti dietro Qual è il senso di metterti dietro per ricevere il pallone c'è spazio per andare vai 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 su giù 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 mamma mia troppo facile così tutto fermo che è successo cos'era ah fuorigioco a metà campo mi fa il fuorigioco prima volta lo vedo e gli sta dietro ma allora sei pirla guarda questi guarda questi non è fuorigioco questo mamma mia io non la voglio perdere questa ragazza trentaduesimo è che questi ci fanno il sedere rosso bollo non ci credo ma non è possibile ma che cazzo ma non è possibile ma una sfiga nera questa oh ma che fai oh e va rapporto sessuale già rapporto sessualo occhio alla ripartenza bello tenuccio ma io l'ho fregata uno stupro in corso era quello dai dove che li freghi mannaggia ci siamo aggetti già un po' di ricorsi non mi sbaglio proprio fatti non ferma il gioco l'arbitro vantaggio eh vantaggio mannaggia io mi coi questo è sudato questo è sudato eh magari se ci andavi con tutte e due non è guarda che poi mica si stanca tiriamo troppo la corda ragazzi qualificazione latinale ancora in perfetta parità proprio come risultato dei primi 45 di gioco vedremo chi avrà più lucidità adesso il problema è che noi come sostituzioni mo' arrivano no che replay andiamo andiamo mo' arrivano mo' arrivano le sostituzioni e lì oh no 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 ragazzi su 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 traguando su Cilin dai fai qualcosa anche te Cilin vai Gomez fai Gomez Cosa che si gira e lo fa tranquillo come se niente fosse come se l'avesse sempre fatti non altro se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi è arrivata così qua c'è il sereno mi sa che non mi sa che lui non lo sa che io lo so che poi lo renderò rivediamo questo gol da un'altra angolazione tranquillo come se l'avesse sempre fatti è arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 dai ragazzi però ora non dormiamo sui cuscini sono presi a disposizione perché abbiamo fatto il gollettino vai di fisico oddio che rischio che rischio che rischio vai furlano furlano bello questo ma tutti lì ma ci andate un po' via fallo e sarà rigore ho 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 ma qui secondo me si gne 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 ma che gne 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 ma dai il cartellino giallo gne 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 no 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 che facciamo in tacutrone poi magari mi vuole anche battere rigore tabono chi lo batte? cosa? no ma perché me lo batte sempre chi non deve rigore aia questo questo non va ah no non è è andato di là io non mi batte anche solo lì non solo me lo ribatte oh bestie ma anche gones ma cosa che vieni bussillato nessun nervosismo le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere meno male è andato di là meno male cinque ne ha fatti vabbè perché abbiamo contratto delle squadre veramente dai ragazzi non dormiamo quanto manca? 60 manca ancora tanto ragazzi dai su corri corri vai bravo bravo tira via sostituzione in vista ma che fa le finte pure questo oh mamma mia se no non era il mio pupillo fantastico veramente dai però ma non foste troviate chi è stato buona l'idea qui c'è spazio per andare occhio alla botta ma dooo no io non me la sento di Fentapeticione non me la sento un abominio contro l'umanità Fentapeticione adesso anche poi c'è la finale che non andiamo a squadra qui si sono accorti come offside che ci sta tutto dove a temporeggiare invece di buttare subito verso la porta sostituzione in arrivo c'è il triangolo c'è il quadrangolo vieni vieni triangolo vieni 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 va bene va bene mi sei piaciuto mi sei piaciuto vieni Petricione vieni mi sei piaciuto per l'intenzione cattiva Cirien Crien perché li chiamo Cirien Cirio manca ancora tanto manca ancora tanto dai bravo scalera bravo scalera recupera il pallone busellato 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 corri però corri oddio dov'è il pallone chi c'è là io questo l'avevo questa dentro manzonga dai tanto per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra tanto il tuo l'hai fatto vai Cutrone vai guarda vai adesso lo fai Cutrone vai se lo fai ti sfido fai gol se fai un gol adesso e uno in semifinale oppure non ne fai adesso ma ne fai due in semifinale ti tengo mi sono già a pentirare l'ho detto però ormai l'ho detto occhio occhio a questo occhio a questo tenetelo guanciumpi come si chiama bravo tutti di prima bavo bavo bavi dai 89esimo ragazzi non facciamo cavolate ora ma questa da solo è un cincinino un cincinino ma un cincinino guarda ma proprio un pelino un pelino doveva andare andava vorrei andare a fare il portiere che volevi fai interrompono bene l'azione finita ragazzi siamo in finale questi erano un po piuttosto sterelli ma comunque ce l'abbiamo fatta bene anche perché ci siamo mangiati almeno due gol grande mi cari sul numero uno con due m prestazione di altissimo livello questi due gol cosa che se ti senti a tuttora cosa che vi che ne hai fatto poco niente ma è mai allora è qui ha vinto il diamo un po facciamola subito ragazzi il nastic io il nastic lo strabattuto prima e quindi vinta a meno che non crolli il mondo in seguito sui recenti risultati li abbiamo segnato tutti i due fondi competizione coppia internazionale europea budget tesoro rematch e aggiuntivo un milione o infine della dirigenza quindi mandato in tutto i due milioni magari se la vinco me ne danno altri due e non sarebbe male quindi adesso quanto 4 milioni di aspettacolo per qualcos'altro anche se mi servirebbe urgentemente mi servirebbe urgentemente un un tersino destro un esterno sinistro allora valore 2 9 no allora è tratta scusa se lo posso portar via inizia trattativa con il club se posso portarvi a meno 2 e 9 un bello scambio giocatori un bel petriccionaccio buzella buzellaccio un bel buzellaccio eh ma cosa ti interessa offerto giocatore offerto giocato ama sempre di questa categoria qua vuoi vuoi un ciri anche a me non piace che però però se ti do a lui che ci metto è un dramma vuoi un petriccionaccio no allora fiamma per il cartellino ti offro due milioni e sei ti va bene tu 2 e 9 dai tu l'ho modo oscar causa di rivendita 11 per cento allora fanno fate per il cartellino ti offro ma che si manti 2 e 7 offerto si offre 28 anzi 27 e 50 rimuovo 3 e 5 quanta offerta ti offro 28 29 come devo fa ti offro 29 oh ah ma allora se non rompi balle ma guarda te contro offerta io sono più rompi balle di te 2 9 e 50 su però ci sarebbe quanto mi è rimasto speriamo di avere i soldi per farvi non so quanto mi è rimasto credo mi sia rimasto un milioncino importante sì sì 5 anni contro offerta 4 e tanto la 100 ignorano la modosca 9 milioni perché ridi su cosa di registrare 9 milioni e 7 ride carini non capisco sto accettiamo questo obbligo sinceramente non mi piace a me sta cosa dai 4 e 6 da 5 io 5 più 80 e va bene va bene ha avuto la cosa di registrare le forze direi dato che abbiamo perso un po di tempo volevo fare tutte e due le partite però vedete che abbiamo perso un po di tempo a fare questo acquisto direi a questo punto la finale la lasciamo per la prossima volta intanto inseriamo il nostro amicone qua faccia simpatica vai perlomeno dove è andato quell'altro 66 perlomeno abbiamo messo un 70 che però allenando si può avere la prospettiva di salire parecchio purtroppo gli abbiamo messo per forza la cosa di recessione che non voglio perché io voglio venderlo quando mi pare a me non quando dicono loro cutrone è in forma dai facciamamente a cutrone no 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 non me la rischio non mi freghi non mi frega anche cosa che è in forma lasciamo così va bene ragazzi allora ci vediamo la prossima volta facciamo la finale la prossima volta e vi ringrazio per la compagnia contro il nastic e alla prossima ciao belli ciao